Ciao a tutti ragazzi, sono Yumi Shan e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi che ti ho letto nel titolo qua sotto torno a fare un video recensione. Questo video recensione mi è stato chiesto da Elisabetta Fraug, che saluto, e mi ha chiesto di recensire su Gas Soldier di Miles Sakai, la stessa mangaka di Rocky Neven e Momo. Tutte e due serie complete veramente stupende che vi straconsiglio. Momo con ambientazione fantasy e sempre un po' con ambientazione scolastica e Rocky Neven, classico show con ambientazione scolastica, però dà i temi molto delicati e veramente una storia molto commovente. Tava sta per affrontare il suo primo giorno di scuola alle superiori, ma niente sarà come si aspetta. Incontrerà poi un ragazzo, anche lui da un passato molto turbolento per via dei problemi che ha col padre, e la nostra protagonista cercherà in tutti i modi di aiutarlo. Mentre qui inizia l'avventura di Yume alla ricerca di sette motivi per cui questo mondo merita di esistere. È un manga che vi consiglio veramente tanto, tra l'altro il nome del mio canale Yume-shan viene proprio dalla protagonista, che è Yume, che è questa ragazza qui. Ma oggi sono qui per parlarvi di Sugazordie, una serie completa in 10 volumi, del quale in Italia però sono usciti solo 8. Vi li faccio vedere tutti. Allora, numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5. Comunque, come potete vedere le copertine sono veramente dolcissime e molto colorate e artistiche. Ho visto la copertina già del decimo volume, è veramente stupenda. Qui ne vengono rappresentate le due sorelle, una Enrica e l'altra Makoto, la nostra protagonista. E per finire l'ultimo volume, però non è uscito il numero 8. E tutti questi li trovate editati alla Planet Manga al prezzo di 4,50 euro. Quella standard, senza sovracopertine, nessuna pagina a colori. Potrebbe sembrare una classica storia con ambientazione scolastica, ma vi assicuro che andando avanti con i volumi, diversi flashback che la Maio Sakai riesce ad esprime veramente bene e che grazie a questi riusciamo a capire diverse sfaccettature, sentimenti che riguardano i nostri protagonisti principali e anche quelli secondari, cosa che della Maio Sakai, insieme alle altre due opere che vi ho mostrato prima, ho apprezzato veramente tanto. Il passato doloroso di Ria, che a causa del brutto rapporto che aveva con la madre da piccolo, ha creato in lui una ferita profonda dal quale non riesce a liberarsi e tuttora proprio il suo carattere sta creando una maschera per cercare di mascherare quello che in realtà lui prova dentro di sé. La nostra Makoto, che è una ragazza molto insicura in se stessa a causa della sorella maggiore e del carattere della madre, è sempre stata messa in ombra della sorella maggiore, che è una ragazza veramente spontanea, solare, stupenda e la madre fa di tutto per mettere in difficoltà Makoto. Andando avanti con i volumi, vedremo che in realtà Rika, la sorella maggiore, soffre molto di questo fatto e si arrabbia molto con la madre. È molto affezionata a sua sorella minore e vorrebbe che la madre smettesse di metterla a disagio. Ho apprezzato veramente tanto il carattere poi di Rika, che cercando in tutti i modi di aiutare la sorella, cercherà poi di mettersi anche contro la madre. E quando infatti per Makoto all'inizio le cose non sono per nulla facili, incontrerà Iria, che questo incontro le sembra come una luce nell'oscurità e cercherà in tutti i modi di migliorare se stessa per poterlo conquistare. Conoscerà poi il suo passato e cercherà in qualche modo di esarcire questa ferita dentro di lui, cercando in tutti i modi anche di migliorare se stessa. È un manga che consiglio veramente tanto, soprattutto per i sentimenti positivi che dà, di non rinunciare ai propri sogni, di credere in se stessi, di non dubitare mai delle proprie capacità e di non sentirsi mai inferiore agli altri, cosa che ho apprezzato veramente tanto nelle storie della Mayu Sakai. Diciamo che questo è di solito un messaggio che manda questa mangata. Veramente stupendo. È bellissima questa collezione, oltre alle copertine e anche ai disegni. Il tratto della Mayu Sakai lo apprezzo veramente tanto. Mi piace veramente tanto. Sono i classici occhioni, quelli tipici da shoujo. Questa sarebbe Rika, la sorella maggiore di Makoto. Eccola qui. Sempre nell'ombra e sentendosi sempre inferiore a lei. Quindi, in conclusione, Sugar Soldier è un manga straconsigliato, almeno da parte mia, per via proprio di questo fatto, di questi sentimenti veramente positivi. Quindi, datele un'opportunità, sono sicura che non ve ne pentirete. Bene, detto questo, spero che questo breve video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato Sugar Soldier, cosa ne pensate, con un commento qua sotto. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao!